Ciao a tutti, come state? Questa sera fa un freddo e la temperatura è scesa sotto zero. Io domani mattina devo svegliarmi all'alba, perciò sarebbe bene andare a letto presto. Se ci riuscirò, entrerò nella storia questa serata, perché ho sempre tanto da fare che non riesco neanche ad andare a letto orari civili. Adesso, prima di andare a dormire però, voglio provare delle ciabattine che mi sono arrivate e mi sono state regalate. Ve ne ha regalate Fran. Queste ciabattine sono con zeppa alta e hanno gli strass. Belle, vero? Adesso le provo. Sembrano quasi un po' grandi, un numero abbondante, però voglio vedere come mi stanno. Sono abbastanza carine però, eh. Credo anche che si adattino molto ai leggins. Sì, sì. Eh sì. Allora. Sì. 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 E. Sì. si con seppalta mi piacciono proprio forse avrebbero dovuto essere un po più piccole credo che siano un pochino larghe forse ho preso un numero di troppo ma a volte così difficile farli coincidere con i numeri europei i marchi stranieri però sono bene grazie 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 grazie